E' un no secco ai distacchi delle utenze Gori. La lotta della rete dei sindaci a difesa dell'acqua pubblica continua senza soste. L'attenzione è massima ed esula da tutti gli altri interventi strutturali che Gori ha tenuto ad affettuare nei vari comuni della Campania e quindi anche nell'agro. Il sindaco di Noceano Inferiore, Maglio Torquato, ribadisce chiaramente questi concetti alla luce degli ultimi sviluppi ed incontri che i rappresentanti della rete a difesa dell'acqua pubblica, che vede ovviamente anche il comune di Noceano Inferiore al suo interno, hanno avuto proprio con i vertici Gori. C'è la convocazione dell'assemblea dell'ente d'ambito presso l'ente idrico campano, è in discussione le procedure per la fase liquidativa e la cessione quote di Gori Spa, quella relativa alle procedure di ingiunzione e di distacco delle utenze e ovviamente le varie pratiche adottate dalla Gori per la sospensione della fornitura idrica e quindi un'azione di contestazione che svolgono almeno in serie di assemblea i comuni che appartengono e che fanno parte della rete per l'acqua pubblica tra i quali comuni per l'esattezza c'è ovviamente Noceano Inferiore. Io credo che la vicenda sia molto ingarbugliata, poco suscettibile al momento di prevedibili sviluppi risolutivi, purtuttavia va detto che la posizione dei comuni per l'acqua pubblica continua ad essere una posizione costante, continua ad essere una posizione attenta e questo non c'entra nulla, contrariamente a quello che qualche sprovveduto ha detto e ha dichiarato con quello che invece Nocera chiede in quanto Comune di Nocera Inferiore per il completamento dei lavori di rete fornare.